Cosa viene la presenza? Io gli avevo detto, quando vai in su nell'acuto, e sopra acuti li fanno i soprani leggeri, delle volte anche certi che no, deve pensare al falsetto, non per cantare in falsetto, perché nel falsetto non spingiamo, se io faccio questo in falsetto, Cosa viene la presenza? Non spingo niente, né col fiato, né con la gola, né con la bocca. Allora, pensando a quello che non spinge, lei deve cantarlo. Cosa viene la presenza? E questo ferma, non deve più spingere, più si va nell'acuto e meno bisogna spingere.